I bambini sono un grande dono per l'umanità, ma sono anche i grandi esclusi perché a volte non li lasciamo nemmeno nascere. Lo ha detto il Papa che ha concluso il primo ciclo di catechesi sulla famiglia parlando dei bambini. I bambini ci ricordano che siamo sempre figli, a volte rischiamo di dimenticarcene, mentre il grande dono della vita è il più grande regalo che abbiamo ricevuto. I bambini non sono diplomatici, dicono quello che vedono, che sentono direttamente e spontaneamente. Non sono persone doppie, non hanno la nostra scienza della doppiezza. I bambini ci insegnano la tenerezza, ci insegnano a sorridere e a piangere. Una società senza bambini è triste e grigia. Meglio una società con i bambini che portano vita, allegria, speranza, anche guai.